Dunque, impilare i documenti fatto, preparare il caffè fatto, chiamare per distire l'appuntamento delle 5 di venerdì già fatto. E adesso? È davvero dura la vita di una segretaria, ma quando il capo non c'è è tutta un'altra storia. Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!